Ed ora la pagina sportiva e facciamo l'appunto della situazione sul calciomercato del Pescara a ospite in studio con noi il nostro Massimo Profeta che salutiamo Ben arrivato Massimo Buon poveriggio A te e a tutti gli amici di Soprima Allora abbiamo parlato di più uscite che entrate per questo Pescara Sì, in questo momento la situazione è questa, è oggettiva più uscite che non entrate, è soltanto un'entrata il secondo portiere Manuel Gasparini che è cresciuto nell'Udinese, è arrivato in prestito dal Potenza sarà appunto il vice di Pizzari sia nel termine della stagione poi si vedrà perché c'è un accordo col Potenza potrebbe essere ingaggiato poi a titolo definitivo in estate abbiamo anche scritto un articolo proprio sull'argomento quattro partenze e un solo arrivo è chiaro che Delicarri si sta muovendo, sta scandagliando per dire il vero il mercato per cercare di ingaggiare sia una mezzala, una mezzala che abbia delle caratteristiche ben precise che si sposino con la mentalità di Zemano con il calcio che predilige Zemano cioè un giocatore di corsa, dinamismo ma anche di qualità se fatto il nome lo abbiamo anticipato noi a dire il vero Lorenzo Meazzi, classe 2001 dell'Intella più un trequartista che però può giocare anche da mezzala ci sono dei problemi perché Meazzi allora intanto la situazione è questa ma la ricordiamo, la sanno tutti Meazzi in scadenza, non rinnoverà vuole vivere un'altra esperienza è cresciuto nel settore giovanile dell'Intella sono già diversi anni che gioca a Chiavari però l'Intella non vuole privarsene non chiede una contropartita in denaro l'Intella questo va precisato in realtà era inizialmente interessato a Tommasini che invece ha scelto di andare a Monopoli ieri c'è stata una giornata piuttosto convulsa per Tommasini perché si era messo d'accordo con la Lucchese poi il Monopoli ha rilanciato un'offerta economica rinunciabile e quindi è andato in prestito al Monopoli ma l'Intella è anche interessata a Franchini però c'è stato il no secco da parte della Pescara quindi vedremo perché questa è un'operazione che potrebbe anche diciamo così concretizzarsi nelle giornate finali di questo mercato ricordiamo la chiusura il 31 gennaio alle ore 20 altro giocatore che viene monitorato da giorni si tratta di un attaccante Mess-Rijks-Rijks che dir si voglia dell'Utrecht ha giocato nell'Under 21 e l'Utrecht ha 20 anni però insomma ci sono dei problemi anche qui il giocatore non vuole rinnovare vuole vivere un'altra esperienza sarebbe più o meno d'accordo con il Pescara però è chiaro che c'è l'Utrecht che ha la titolarità del cartellino bisognerà capire quali possono essere gli sviluppi su questo giocatore per il resto ci sono anche altri profili Massimo Riservo su altre mezziali un paio in uscita da club di Serie B però sono tutte situazioni che verificheremo nei prossimi giorni Luca insomma in questo momento è una situazione di stallo Ecco Massimo la mancanza di liquidità in qualche modo impone anche una certa creatività questa analogia tra attaccante olandese e Meazzi sulla rivendita Sì esatto beh sì è un escamotage che si utilizza un po' da diversi anni il Pescara l'ha fatto spesso fa almeno una decina di anni è un po' emulato anche da grandi club perché il Pescara sta cercando per portare a casa questi due giocatori di convincere i rispettivi club che sono proprietari dei cartellini di concedere potrebbe concedere magari la percentuale sulla rivendita futura del calciatore sia per Rijks che per Meazzi però bisogna capire se saranno d'accordo sia l'Utrecht che l'Entella Chiudiamo con una breve riflessione sulla prossima trasferta del Pescara due sconfitte cocenti per i biancazzurri ad Arezzo il riscatto? Beh ad Arezzo deve essere il riscatto almeno questo è l'ospicio di tutti perché non è un buon momento questo per il Pescara la dimensione è questa noi l'abbiamo sempre detto insomma per come è stata fatta la squadra per l'organico dal terzo al sesto posto io mi ero anche un po' pronunciato all'inizio della stagione non ho mai creduto a una squadra che potesse competere per la vittoria del campionato i fatti ci stanno dando ragione però adesso sta facendo male il Pescara soltanto due punti nelle ultime quattro partite Zeman che non riesce a battezzare un 11 tipo ormai dall'inizio della stagione soltanto quattro volte in 21 partite la stessa formazione solo in quattro circostanze è un dato che fa riflettere un Pescara che adesso intanto dovrà rinunciare Zeman ancora a Pellacani non ci sarà a Cornero tornerà a disposizione Mesic diciamo che davanti le scelte sono più o meno obbligate perché non c'è più Tommasini Vergani sta vivendo un momento un po' così anche dopo soprattutto dopo il rigore fallito in malo modo con il Perugia quindi dovrebbero giocare da destra verso sinistra Merola Cuppone e Cangiano poi bisognerà vedere c'è un ballottaggio in difesa perché torna a disposizione come detto di Hansi Mesic però di Pasquale al di là dello sfortunatissimo otogol ha fatto molto bene contro il Perugia e poi a centrocampo il solito centrocampo che potrebbe cambiare per l'ennesima volta staremo a vedere a mio avviso potrebbero giocare Squizzato Tugnov e Franchini e staremo a vedere e staremo a vedere